Di Gennaro con il sinistro toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali e manda in paradiso stavolta per davvero Nicola Cerioni e la sua Juve Stabia al termine di una stagione da film Beh dopo questa emozionantissima serata di Coppa Italia che sembrava infinita ma che alla fine ha premiato i ragazzi di Nicola Cerioni Bisogna iniziare la nuova stagione e quindi ripartire con un mercato che effettivamente non sarà semplicissimo Perché se sembra iniziare nel modo giusto e quindi con il rinnovo del prestito di Di Marco per altre due stagioni Con l'arrivo di Luci a parametro zero e con quello di Buffon a un euro Non sto scherzando, almeno qui c'è scritto un euro, presumo a parametro zero anche quello Ma un euro simbolico evidentemente è stato pagato dalla società quindi è interessante Ci sono in realtà anche delle complicazioni in particolar modo da parte della dirigenza Che è sull'orlo del fallimento come mi scrive qui Nicola Perché effettivamente la dirigenza Guinassi non riusciva a coprire alcune spese In particolare relative agli ingaggi di Pellè e di Del Sole Ma nel momento più difficile, più nero dell'estate Un imprenditore americano decide di puntare e di investire di conseguenza ben 140 milioni di euro Sulla società campana, ridando vita, linfa alla Juve Stabia Per una stagione che ricordiamo sarà storica in Serie A Giocando l'Europa League e quindi per forza di cose emozionante Una stagione che però coinciderà, leggo qui, con alcune ultime chance Perché per esempio 5 giocatori, ben 5 giocatori annunciano il ritiro al termine di questa stagione E vi parlo di Andrea Luci a 35 anni Di Fabrizio Melara a 36 Di Davide Moscardelli, bomber della passata stagione assieme a Pellè Che ormai è arrivato alla soglia di 40 anni Lui che ha segnato anche in finale di Coppa Italia contro la Roma Poi Carlini e lo stesso Pellè a 35 La prima gara ufficiale è chiaramente la Supercoppa Italiana Juve Stabia contro Juventus Una gara che tra l'altro, se vi ricordate, si era giocata proprio in Coppa Italia Aveva premiato la Juve Stabia Che aveva vinto in quel caso ai calci di rigore E anche stasera, in questa prima gara ufficiale dell'anno Si va ai calci di rigore Dopo il 3-3 clamoroso Peraltro come quella volta in Coppa Italia Nello scorso episodio che vi lascio sempre qui sono nelle schede Anche stasera la Juve Stabia vince ai calci di rigore Al termine di una gara al Cardiopalma Che sembra un po' la copia di quella sfida lì E quindi altro trofeo pesantissimo in Bacheca per Nicola e i suoi Può succedere perché poi si parla di calcio d'agosto e tutto quanto Quindi iniziamo la stagione e vediamo cosa succederà L'inizio di campionato è da grandissima squadra Perché arrivano soltanto vittorie Contro la Fiorentina l'esordio per 2-1 In gol tra l'altro Luci da ex Livorno Quindi come un derby per lui Vittoria a San Siro per 3-1 contro il Milan 3-0 addirittura contro il Parma E poi è il momento dell'Europa League Girone, quello dei ragazzi di Nicola Che comprende oltre chiaramente alla Juve Stabia Leicester Altac e Sonderiske Squadra che conosco molto bene perché ho commentato a Sport Italia Nel campionato danese Ma comunque non uscendo fuori tema L'Altac è il primo avversario Finisce 1-1 In casa di Nicola praticamente A Castellammare Un esordio così così Insomma non si poteva pensare di vincerle tutte Il problema è che è un esordio che intacca un po' anche il campionato Perché poi da lì la Juve Stabia comincia ad arrancare un po' Arrivano due sconfitte consecutive contro Bologna e Torino Non benissimo Poi un pareggio in trasferta contro l'Empoli Per 2-2 Quindi sembra già finita la magia di inizio stagione Dopo tre vittorie Adesso tre partite senza una vittoria Tre punti che però tornano in grande stile Contro una squadra non casuale L'Inter Che nella passata stagione ricordiamo Era stata vittima di un miracolo sportivo Quella doppia sfida in semifinale Che aveva premiato i ragazzi di Nicola Che si sono poi giocati la sfida contro la Roma Allo Stadio Olimpico Vittoria contro i Nerazzurri Che arriva in rimonta E a Castellammare Con l'Inter che si era portata in vantaggio Poi rimonta da firmata del Sole Doppietta per lui E 2-1 con gol allo scadere Che rimette morale in casa dei gialloblu Un morale che serve Ma ovviamente non basta Perché la prima parte di stagione È caratterizzata e non potrebbe essere Altrimenti da alti e bassi Anche e soprattutto per gli impegni europei Perché la Juve Stadia non ha una rosa così tanto lunga Arriva per esempio una sconfitta Al King Power Stadium Contro il Leicester per 2-0 Che sembra già complicare e non poco Il girone e il cammino Soprattutto europeo di Nicola Che in campionato come detto Continua a macinare punti Non con troppa continuità Ma ovviamente con una media Sicuramente interessante Che gli permette di tenersi Nella parte sinistra della classifica In Europa invece L'apparente cambio di passo E dico apparente non a caso Arriva in una gara contro il Sonderis Che è vinta 2-0 E che comunque corrisponde anche Alla prima vittoria europea Per i ragazzi di Nicola Quindi sicuramente una notte molto importante Che non cambia troppo la musica Perché poi arriverà un'altra sconfitta Pesantissima In casa contro l'Altac Addirittura per 4-0 E lì sembra veramente tutto compromesso Ma ci può anche stare È la prima Europa League Per la Juve Stadia Ci starebbe a uscire ai gironi Come d'altronde Se volessimo utilizzare un paragone reale Per l'Atalanta di Gasperini Ci stava uscire ai gironi Nella passata stagione Con il City Con lo Shakhtar E con la Dinamo Zagabria Il problema è che poi Gasperini e i suoi Hanno trovato un miracolo sportivo Dettato soprattutto dalla maturazione Live se volessimo E quindi proprio nello stesso girone Nello stesso anno Giocando partita dopo partita Ed è la stessa cosa che accade a Nicola e i suoi Che infatti battono sorprendentemente Prima il Leicester in casa per 1-0 E poi sempre in casa per 3-1 Il Sonderis Che sarebbe bastato anche un pareggio Per passare da seconda Ma comunque La Juve Stadia è riuscita a portarsi a casa La posta completa I tre punti pesantissimi Che sempre da seconda Permettono a Nicola e i suoi Di volare ai sedicesimi di Europa League E allora se ne parlerà a febbraio Nella seconda parte di stagione Rispostiamo invece l'attenzione sul campionato adesso Perché un girone d'andata comunque molto positivo Si chiude con una pesantissima sconfitta 0-3 in casa contro la Roma Sconfitta che peraltro riporta tutti con i piedi per terra E la classifica invernale recita Juventus 56 Roma 51 Inter 49 Lazio 46 Napoli 39 Juve Stadia 37 Comunque sesto posto Cioè voglio dire Non malissimo no? Per una neopromossa Però comunque sia Non siamo neanche in modo troppo clamoroso In zona Champions Per capirci Ma comunque Testa alla seconda parte di stagione Perché ci sarà la Coppa Italia Breve ma intensa Mi verrebbe da dire Breve e basta per la verità Perché c'è una sfida singola contro l'Atalanta Un ottavo di finale Che termina tristemente 0-1 Decide Malinoski E quindi la Juve Stadia va fuori subito Nella competizione che aveva alzato Nella passata stagione Il 2021 inizia la grande 2-1 sul campo del Parma 4-3 Rocambolescu in casa contro l'Empoli 2-3 sul campo dell'Inter Si vince a San Siro E quindi Tre vittorie che danno morale In vista soprattutto Del ritorno in Europa Perché c'è lo sport in Lisbona Ai sedicesimi La prima sfida si gioca In casa Della Juve Stadia A Castellammare E finisce male Finisce 0-1 Nel modo peggiore Perché non sfrutti la gara casalinga Per fare gol E questo già è un problema Ma d'altronde lo sapevi Perché passando da seconda La prima in casa La seconda fuori Comunque ci vuole un miracolo Eventuale A maggior ragione Con questo brutto risultato Non è detta l'ultima però A Lisbona ci vuole un miracolo Ma in realtà neanche troppo Ci vorrebbe semplicemente Una grande partita Una notte da impresa Una notte in cui tutti si uniscono Come accadeva nella passata stagione Come è accaduto in tante serate E accade anche qui Accade Tra l'altro Tanto per cambiare Con una prestazione Indimenticabile Del capitano Della Juve Stabia Tonucci È lui A svettare di testa Per un gol pesantissimo Quello dell'1-0 Quello che trascinerebbe I suoi Ai tempi supplementari Il condizionale è d'obbligo Perché lo sport in Lisbona A inizio secondo tempo Esattamente al minuto 9 Trova il gol dell'1-1 Dura pochissimo però Perché al sessantesimo E quindi a mezz'ora dalla fine E ancora avanti Lo Stabia 2-1 con gol di Massimiliano Carlini Che segna poco Ma quando segna Trova gol pesantissimi 2-1 E in questo momento La Juve Stabia Con due gol In trasferta Contro l'unico Segnato da Dost A Castellammare Passerebbe il turno Attenzione Perché la partita Non è ancora finita E ovviamente Come spesso accade nel calcio Soprattutto quando sei In una squadra inesperta Concedi Così E Subisci così 2-2 Altro pareggio Dello sport in Lisbona Notte che sembra ormai Da una parte Maledetta Perché Ogni volta che ci provi Non riesci poi A gestire Ma questo potrebbe essere Anche normale Però Effettivamente Guardiamola dall'altro punto di vista La Juve Stabia di Nicola Ci prova E a volte ci riesce Anche a far male Allo sport in Lisbona Che sembra tutto Tranne che Imbattibile E soprattutto Quadrata Dietro E allora bisogna Cercare di far bene Bisogna cercare di Crederci Fino alla fine Come ha sempre fatto Questa squadra E come ha fatto in parte Anche stasera Con Tonucci Prima Con Carlini E a proposito di Carlini Siamo al minuto 89 Posizione interessante per un cross Più che per un tiro Davide Moscardelli però è caldo In questo periodo È caldo generalmente Ha voglia di risolverla E quindi Nonostante la posizione È defilata E non vicinissima Va direttamente in porta Impegna Seriamente Rui Patricio Che risponde Ma non trattiene Palla che rimane lì In zona Ad un metro Dalla porta E ad un secondo Dal fischio finale Praticamente Quel metro E quel secondo Che danno ragione Ancora una volta A Massimiliano Carlini Che arriva Inespirata In allungo E mette dentro Il gol del 2-3 Il gol che basta Per concretizzare Il sogno E la voglia Di scrivere La storia Ancora una volta Ancora una notte A favore Della Juve Stadia di Nicola Ottavi Di finale Di Europa League Alla prima partecipazione Ed è un qualcosa Di chiaramente storico Una favola Meravigliosa Che continua Quella dei ragazzi Di Nicola Che agli ottavi Pescano Comunque Una squadra scomoda Perché si giocherà Contro il West Ham Una squadra inglese E ci arriveremo Ci arriviamo Tra pochissimo Perché chiaramente Prima di quell'impegno Ci sono altre sfide Di campionato E un buon momento Comunque per la Juve Stadia Che pareggia Contro la Fiorentina Ma vince in casa Contro il Cagliari E allora sempre in casa Ancora in casa È il momento di affrontare Il West Ham Una notte Che vale tanto Da un punto di vista Di intensità Da un punto di vista Di storia Una notte All'interno della quale I ragazzi di Nicola Alternano Una prestazione Convincente Ad una A tratti un po' Impaurita Ne esce uno Zero a zero Che sa di tutto E non sa di niente Tutto rinviato Alla gara che si giocherà Nel Regno Unito Sette giorni Nei quali ci sarebbe Comunque un impegno delicato In Serie A Perché a Castellammare Arriva il Milan Un Milan che è sempre Un avversario scomodo E vuoi o non vuoi La testa di Nicola E company È sul West Ham Si vede in campo Perché solitamente Queste partite La Juve Stabia Le ha sempre interpretate Nel modo giusto Stavolta no Finisce due a uno Per il Milan Ma sarebbero potuti Essere di più È una sfida All'interno della quale Tra l'altro Molti giocatori escono Con le gambe pesanti Molti non sono al 100% E quindi Comunque Non aiuta Questo clima Ad affrontare La gara praticamente Più importante della stagione Quel maledetto ritorno O benedetto Dipende dai punti di vista In casa Del West Ham Ora Se c'è una cosa Che abbiamo imparato E che abbiamo analizzato In questi due video Dedicati alla Juve Stabia Di Nicola È che nessuno Ti regala mai nulla Poi per carità Puoi fare delle imprese Però Spesso e volentieri Le partite iniziano male Come questa contro il West Ham Inizio shock Al sedicesimo Segna Sebastian Haller Al quarantatresimo Franco Vasquez Raddoppia In questo momento Il West Ham È ai quarti Di Europa League La Juve Stabia Nemmeno è scesa in campo Lo fa Lo fa E come nella ripresa Non potrebbe essere altrimenti Moscardelli La riapre praticamente subito E Basterebbe un gol Un maledetto gol Per pareggiare a ritorno E passare per i gol In trasferta Quel maledetto gol Però non arriva Finisce 2-1 West Ham Gli inglesi passano La Juve Stabia Esce comunque A testa alta Per averci provato Fino alla fine Contro una squadra Più forte Più rodata Più esperta Stavolta non c'è stata Una favola Ma è stata Una favola Questa Dei ragazzi di Nicola Che è iniziata Praticamente Più di un anno fa Con quella prima giornata In Serie B Quella che poi Ha portato ad un secondo posto E comunque Sui ravi dell'entusiasmo Una Coppa Italia vinta Una Coppa Italia Che ha regalato Lo ricordiamo La partecipazione A questa competizione europea Che molti giudicano Di Serie B Ma che in realtà È comunque una competizione Molto interessante Che va affrontata Nel modo giusto La Juve Stabia Lo ha fatto Ma non è bastato Quindi fuori agli ottavi Che non è comunque male Per una neopromossa Alla prima partecipazione Arrivano anche in campionato Nelle giornate successive Dei brutti risultati Pareggi di troppo Sconfitte di troppo Che un po' rallentano Quello che era il cammino Comunque ambizioso E che resterà ambizioso Per Nicola e i suoi Perché arrivano anche Comunque delle vittorie Una In particolar modo È fondamentale Ed è Tanto per cambiare Contro la Roma Dico tanto per cambiare Perché ricorderete A inizi episodi Ad esempio La finale di Coppa Italia No? È una partita molto importante Perché permette Aritmeticamente Ai ragazzi di Nicola Di essere al settimo posto Quindi la certezza Di qualificarsi Per un preliminare Di Europa League Un qualcosa di molto importante Per dare continuità Ad un progetto Che ormai Dobbiamo dirlo È ambizioso Avrà continuità Non sapremo Cosa succederà Nella prossima stagione Perché non la racconteremo Però Ci piace immaginare Scrivetemi qui sotto Nei commenti Cosa immaginate voi Che possa succedere Nella prossima stagione Magari Nicola vi risponde E vi dice Avete indovinato O avete sbagliato Intanto c'è un campionato Da chiudere Si chiude Per quanto riguarda La Coppa Italia Con la Juventus Che vince Tra l'altro Ai danni del Cagliari Squadra rivelazione Per quanto riguarda Questa competizione Che l'anno scorso Invece aveva favorito Appunto la Juve Stabia Un'altra rivelazione Juve Stabia Che invece chiude Il suo campionato Con una sfida casalinga Contro il Sassuolo Ora qui non voglio Improvvisare Voglio leggere Esattamente quello Che mi ha scritto Nicola Perché si è impegnato Mi ha scritto Un papiro enorme E lo faccio Anche perché Questi 90 minuti Sono fondamentali Non soltanto Per fattori di classifica Ma ricorderete Ve l'ho detto prima Perché molti veterani Si ritireranno Al termine Di questa stagione Ve li ho letti E appunto Li ricorderete Mi auguro Juve Stabia Sassuolo Quella del menti Non è Una sfida Da sottovalutare Il Napoli Perde a Udine Dunque Con tre punti Lo Stabia Chiuderebbe Sesto Contro un Sassuolo Già sicuro Del quinto posto Quindi comunque Anche Nero Verdi Che non possono lamentarsi Per una grandissima stagione E ovviamente Piccolo inciso In caso di sesto posto Non ci sarebbero I preliminari Ma ci sarebbe La certezza Di giocare l'Europa League Anche l'anno prossimo Direttamente Alla fase a Gironi Ma non usciamo fuori tema Rimaniamo qui a leggere E anche Come ci scrive Nicola L'ultima partita Di cinque giocatori Tutti schierati titolari Al sessanta tresimo A portare in vantaggio I padroni di casa E uno dei cinque E Graziano Pellè Che trova l'uno a zero Stabia che poi difende Anche grazie agli interventi Essenziali di Gigi Buffon E trova anche spazi Per ripartire Non riuscendo però A chiuderla Cosa che si rivelerà Fatale Dato che al minuto Ottantaquattro Pareggia Peluso E la partita Finisce così Finendo così la partita Ovviamente Nessun sesto posto Nessuna fase a Gironi Diretta Ma soltanto la speranza Concretizzata Perché già ve l'ho detto prima Di un turno preliminare Che si concretizza Nel momento in cui La Juventus Anche questo vi ho detto prima Batte il Cagliari In finale di Coppa Italia Non ho creato hype Perché non serviva Onestamente in questo caso Vi ricordo che Appunto Qui finisce l'avventura Della Juve Stabia Mi sbaglio sempre Secondo almeno Il nostro racconto Vi lascio immaginare E vi ripeto Nicola poi Vi dirà la sua Qui sotto Nei commenti Insomma Questo Il racconto Della seconda Ed ultima stagione Per quanto ci riguarda Della Juve Stabia Di Nicola Un racconto che Onestamente Non potevo non portarvi Apro una piccola parentesi Nel finale di video Perché in tanti Me l'avete chiesto Sono stato indeciso Perché era passato Talmente tanto tempo Dal primo racconto Ed è passato Talmente tanto tempo Che non so concretamente Quale sarà la vostra risposta Mi auguro che sia positiva Mi auguro che Supporterete al massimo Questo video Così come magari Questo format Anche su FIFA 21 Dove ci sarà la nostra Di carriera Dove comunque Ci saranno altre cose Non soltanto riguardanti FIFA 21 Ma in generale Il canale La mia vita lavorativa E molto molto altro Quindi mi auguro Di avere sempre Il massimo supporto Da voi Vi ringrazio Ringrazio Nicola Per avermi iscritto Dettagliatamente Tutto quanto Vi mando Un bacione Never give up E alla prossima Ciao Grazie a tutti